A nome dell'illustrissimo Castellano della Fortezza Santo Leo Ho il sommo onore di dare il benvenuto Alle vostre signorie tutte qui vi giunte Ai festeggiamenti per lo sposalizio di Federico Comuse di Urbino E nostra signora madonna Battista Sforza Ed è dunque giunto il momento Per indire i festeggiamenti ed entrare nel vivo della giornata Diamo ora inizio al torneo in armatura Grazie a tutti Grazie a tutti Sono tre punti per il rosso Sono tre punti per il Montepetro Che profisce la testa di Unione di Savoia Tre volte magnifico Il torneo è finito Il vincitore della seconda edizione del torneo in armatura 2016 Ci conferma Giorgio Edio dei Carminati Per il Colleoni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti